Attenzione puntata sul fine settimana. Il primo di maggio, sabato, domenica 2, primo weekend dalle riaperture, Italia in buona parte in zona gialla e una regione, la Liguria, che guarda questa sorta di primo test per scoprire come potrebbe presentarsi la stagione estiva. Fra il timore per un innalzamento della curva dei contagi che gli esperti danno quasi per scontato e la speranza per la campagna vaccinale che sta ingranando, la Liguria aspetta i turisti. Gli assessori regionali Berrino e Gianpedrone hanno incontrato il Ministero dei Trasporti e i concessionari autostradali e hanno annunciato che a partire dal secondo fine settimana di maggio i cantieri autostradali verranno sospesi per il weekend, mentre la pausa estiva inizierà a partire dal 15 di giugno. Dal lunedì al venerdì i cambi di carreggiata e le chiusure notturne sono invece confermati, abbinati all'incremento di traffico che le riaperture portano inevitabilmente con sé. Mercoledì mattina alle 6 ha riaperto il casello di Sestri Levante in anticipo rispetto alla previsione iniziale che era stata fissata all'8 di maggio. La chiusura lunedì ha coinciso con la ripresa di alcune attività culturali e commerciali. È stata comunicata molto a ridosso della sua effettiva attuazione sabato mattina e potenzialmente avrebbe potuto isolare Sestri Levante, visto che l'altra strada è quella che passa attraverso le gallerie di Sant'Anna, su cui Anas sta ancora rafforzando la scogliera di protezione a mare. Dal comune di Sestri è partita già sabato una lettera di protesta. Il pomeriggio stesso mi ha richiamato un responsabile del Nord Italia di Autostrade per l'Italia proponendomi questa possibilità, cioè la possibilità di creare un bypass, una corsia per delimitare lo spazio dei lavori, chiudendo interamente la tratta come è avvenuto questa notte, ma riaprendo tutto da questa mattina. Direi che è uno dei casi in cui quando si protesta con determinazione a volte i risultati arrivano. Penso che possa essere una delle questioni da affrontare in modo su fronte comune, come stiamo facendo in queste settimane con la questione dell'appalto dei rifiuti. Insomma, quando si delineano delle criticità che riguardano tutto il territorio, credo che fare fronte comune sia sempre la cosa migliore. Penso e sono convinta che lavori siano da fare, ci mancherebbe, abbiamo visto quanto l'incuria ha prodotto poi disastri, anzi ci troviamo adesso a fare quello che non è stato fatto prima, però ci deve essere un raziocinio nell'attuarli, certe sagionalità, certi momenti preservati e comunque non devono essere decise in modo avulso dal territorio.